Di tornare a casa scontenti delle fotografie che abbiamo fatto capita a tutti quanti. Nel corso di questa simpatica rubrica vado a esaminare le fotografie che voi mi mandate da casa e vado a commentarle nella speranza che la mia esperienza possa essere d'aiuto non solo per chi le ha scattate ma anche per chi guarda per cercare di migliorare i nostri scatti sia che siamo in vacanza sia che stiamo eventualmente facendo i nostri primi lavori. Ciao a tutti amici bentornati sul mio canale io sono Cesare mi occupo di fotografia per lavoro quindi vi porto la mia esperienza in questi contenuti che cerco di tenere più brevi possibile ma il più delle volte non ci riesco perché le fotografie che mi mandate sono tante se volete sapere come partecipare la cosa che dovete fare è scrivermi un messaggio privato su instagram in cui mi mandate un link con i vostri lavori una decina quindicina di foto su un link che non scade quindi non we transfer ma piuttosto un google drive o amazon photos l'ho già detto in tanti video precedenti che vi invito ad andarvi a recuperare e iscrivetevi anche al canale in maniera tale che non vi perdete gli aggiornamenti e non vi perdete magari proprio il video in cui ci sono le vostre foto. Vi chiedo anche per la seconda volta che cosa ne pensate di questo video per quanto riguarda luci e colori perché sto utilizzando Canon EOS R10 fotocamera che mi è stata mandata direttamente dalla casa finché io potessi provarla e raccontarvi che cosa ne penso. Su questo canale porto anche un sacco di recensioni perché ho tanta strumentazione mia e tanta altra mi viene mandata in prova quindi se siete interessati a recensioni strumentazione varia il bottone iscriviti è sempre qui sotto. Io mi sto trovando molto bene con questa R10 devo dire veramente molto bene per cui ringrazio la casa che me l'ha mandata e sto utilizzando il 18150 ottica che di cui io stesso parlo spesso male perché si è un'ottica quasi super zoom a me non piacciono queste ottiche preferisco degli zoom sotto il 5 per o delle ottiche fisse ancora meglio però volete sapere una cosa quest'ottica secondo me se la cava un gran bene fatemi sapere voi che cosa ne pensate e adesso saltiamo nel mio computer e andiamo a vedere questo portfolio. Prima immagine questo è un tipo di fotografia a cui io personalmente sono abbastanza appassionato perché mi piacciono molto i fasci di luce mi piace questo questo tipo di atmosfera fumosa no vedo non vedo con questa luce che secondo me è un proiettore da cinema adesso non vorrei sbagliare ma a me sembra proprio un proiettore se non da cinema un proiettore domestico casalingo però mi sembra proprio un proiettore e vi dirò mi piace mi piace abbastanza questa immagine con questa figura qui davanti che ha qualcosa in mano cosa sarà uno smartphone quasi sicuramente e sta fotografando il proiettore non lo so comunque è un'immagine che ha quel tanto di mistero e quel tanto di contrasto bello potente con dei colori che sono anche secondo me gestiti bene secondo me questa è molto azzeccata bel concetto andiamo avanti e vediamo se ci teniamo su questa linea di galleggiamento bella alta andiamo avanti e oh ragazzi io qui intravedo una grana non ho l'occhio così fine né tanto meno sono così esperto da capire al volo se si tratta di una foto scattata a pellicola oppure se si tratta di un effetto applicato a una foto digitale perché comunque quando un lavoro è stato fatto bene non è così facile discernere la differenza diciamo che ha un look molto pellicoloso però poi il file si chiama dscf quindi secondo me è stata fatta con una nikon digitale mi domando se siano alti gli iso per ottenere questa grana oppure se sia post produzione in ogni caso l'immagine è bella funziona secondo me c'è questa macchia di colore molto presente il trattamento dell'immagine è giusto perché è aggressivo però funziona mi porta fuori questo colore abbiamo queste queste linee di fuga date dai binari e dai dai tralicci e questa figura solitaria vi dirò io non sono amante della street proprio per niente però secondo me questa immagine funziona e funziona in gran parte anche per via del trattamento che ha ricevuto se fosse stata piatta tutto grigione non mi avrebbe detto niente invece così funziona molto andiamo avanti ragazzi io mi lamento sempre che fate il bianco e nero a caso questo non è un bianco e nero a caso questa qui c'è del ragionamento abbiamo la croce sulla sinistra i cespugli sulla destra queste due figure solitarie lì nel mezzo vogliamo trovare un paio di difetti sì non è facilissimo ma troviamoli allora anche se non è propriamente architettura però la croce pende un pochino io l'avrei raddrizzata non ce la faccio più forte di me e per quanto riguarda invece l'esposizione a me sembra buona però io avrei cercato di recuperare un po di più le alte luci nelle nuvole da sotto proprio poco 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 per il resto ci siamo non c'è granché da dire su questa funziona è molto è molto granitica ti da proprio l'idea dell'immobilità temporale fuori dal tempo questi sembrano sembrano quasi due frati immobili lì sotto questa croce quindi secondo me funziona non sono spesso volentieri non sono foto che ti raccontano chissà cose sono evocative non capisci nemmeno dove sono state fatte però a livello visivo di grammatica funziona andiamo avanti allora attenzione attenzione noi qui abbiamo secondo me siamo in liguria però poi aspetto i commenti dell'autore perché magari ci dà qualche dettaglio in più o mi smentisce secondo me siamo in liguria anche se non chiedetemi dove perché non lo capisco e qui abbiamo quasi certamente una posa lunga perché vedete le stelline nei lampioni quando ci sono le stelline nei lampioni significa che abbiamo chiuso il diaframma e per avere una foto esposta giusta con con il diaframma chiuso di notte vuol dire che abbiamo fatto una posa lunga quindi questo secondo me era su tre piede e se era su tre piede è veramente un peccato non aver fatto un bel bracketing perché con il bracketing recuperavamo tutta quella zona nera tutto quel nero che c'è in alto in basso e gestivamo meglio tutto quindi con un bel bracketing anche da cinque stop questa veniva molto più potente secondo me perché avevamo più dettagli su tutto il fotogramma andiamo avanti qui non capisco assolutamente dove siamo questa allora guarda mi dispiace mi dispiace di dire quello che sto per dire questa non è malvagia c'è un chiaroscuro una silhouette che funziona anche ed è dritta ragazzi è dritta a me dispiace demolire una foto quando è dritta demolire non demolisco niente io qui però questa per quello che ho visto finora in questo portfolio questa è la prima foto che io forse scarterei io l'avrei tolta perché le altre eravamo erano foto più potenti di questa avevano più cose dentro questa qui io l'avrei tolta perché mi racconta molto poche proprio solo una silhouette con un aereo che passa che è proprio al centro sull'orizzonte io l'avrei scartata personalmente io l'avrei scartata andiamo avanti e cavolo è questa e poi guardate che roba guardate che roba è dritta è maledettamente dritta e questa è una soddisfazione per me questa foto è dritta l'esposizione è bella è potente c'è il blu dietro in contrasto con l'arancione dei mattoni c'è il richiamo con il blu perché il signore anziano ha il cappellino blu c'è addirittura l'altro signore quello in basso che ha i piedi entrambi dentro nel fotogramma per un pelo e mi rendo conto che era in movimento non era facile da fare questo è proprio una bella cattura perché beccata così al volo e io potrei fare il fenomeno e dire però vorrei vedere un pochettino di più quei sacchi che ci sono lì capire un po meglio la situazione ma non è vero niente sono tecnicismi inutili questa è stata scattata probabilmente al volo è stata beccata bene e funziona così com'è su questa non ho granché da dire poi può piacere o non piacere e io questa non la stamperei mai indubbiamente però come cattura come come attimo congelato bel lavoro bel colpo andiamo avanti non capisco dove siamo assolutamente però mi sembra che sia un ormeggio questo mi sembra che ci sia dell'acqua lì sotto però non mi sembra la liguria non riesco assolutamente a capire dove siamo non è niente male potrebbe essere poteva essere una bella cartolina l'unica cosa che anche qui l'unica cosa che non mi fa impazzire e questa secondo me è stata scattata a mano è perché io posso anche sbagliarmi però qui non vedo stelline nei nei punti luce quindi secondo me questa è stata scattata a mano anche qui un bracketing ci stava dun bene ragazzi ci stava dun bene avrebbe portato fuori molta più più luce molto più colore nelle parti sia chiare sia scure anche nel poco cielo che si vede dietro secondo me qui un bracketing era veramente la morte sua andiamo avanti mi state cominciando a piacere sul bianco e nero mi state cominciando a piacere guardate che roba guardate che roba questa è esposta bene perché c'è un po di perdita di dettaglio nei bianchi e nei neri però il bilanciamento è giusto cioè fare meglio di così era difficile quindi va bene così e la composizione guardate che roba la composizione c'è questa edicola che è centrata è dritta abbiamo il bianco delle cartoline sulla sinistra e il bianco del signore tutto vestito di chiaro sulla destra l'insegna lì che incornicia il tutto è questa può piacere o non piacere però secondo me è fatta bene questa è la scelta del bianco e nero ci sta benissimo sono anche molto contento che non mi state proponendo cose lasciatemelo dire un po pacchiane come per esempio io qui mi sarei aspettato magari ma non perché non perché il fotografo in questione ma perché mi capita di vedere cose del genere ovunque mi sarei aspettato di vedere la scritta sulla libreria lasciata a colori e tutto il resto in bianco e nero ecco secondo me più le evitiamo queste cose meglio è perché non dicono niente di noi non dicono niente del posto dicono solo che non sapevamo come fare che non eravamo convinti del nostro bianco e nero invece questo è convincente andiamo avanti faro di notte sono molto dubbioso ragazzi e vi voglio spiegare il perché allora io vedo questo faro vedo la luce che mi sembra faccia la stellina quindi a rigor di logica sarei portato a pensare se vedo il punto luce che fa la stellina dovrebbe essere una foto notturna fatta con diaframma chiuso e quindi probabilmente eravamo su tre piede e mi ritrovo a guardare il movimento che c'è sull'acqua quest'acqua che è chiaramente mossa mi domando quanto mossa cioè mi domando quanto sia stata lunga la posa qui secondo me se allungavamo ulteriormente la posa poteva essere diverso magari meglio magari peggio mi sarebbe piaciuto vederlo anche con una posa un pochino più lunga chissà di quant'era magari era questa potrebbe essere 10 20 secondi mi domando come sarebbe stato con una posa di un minuto due minuti me lo domando è perché comunque non è brutto l'effetto sull'acqua magari è meglio così è solo una domanda che mi faccio un'altra cosa che mi viene da pensare è che probabilmente io avrei stretto di più su questo faro e forse l'avrei anche fatta verticale perché tutto il resto del frame è nero sopra non si vede quasi niente quindi io avrei stretto sul faro e forse l'avrei anche rifilata verticale o scattata direttamente verticale meglio ancora andiamo avanti e ci risiamo questa è la seconda foto che io scarterei perché la scarterei perché di nuovo è una silhouette non è che ce l'ho con le silhouette adesso non è che non dovete più mandarmi silhouette però io qui vedo una scena marittima vedo due barche però non capisco che barche sono quindi magari sono barche famosissime sono ignorante io però a me sembrano due due barche con un singolo albero normalissime con un cielo che può essere un alba un tramonto ma non particolarmente carico non particolarmente bello anche e è una scena che a me racconta veramente poco è una cosa che vedo tutti i giorni quando vado al mare la mattina o la sera quindi mi racconta poco e mi sa molto di ero lì vedo due barche tiro giù lo scatto però questa è una è la tipica immagine che io da un portfolio scarterei perché non c'è abbastanza di me nella foto sembra lasciato molto al caso e io non voglio dare questa impressione quindi questa io la scarterei andiamo avanti e questa invece non dico che la scarterei perché comunque qui c'è della ricerca di nuovo silhouette chiaro scuro però questa mi piace di più anche se chiaramente è solo una pattern anche qui questa non racconta proprio nulla perché non c'è praticamente niente non capisco neanche se è il sole o la luna potrebbe essere entrambe potrebbe essere il sole con una posa molto molto rapida diciamo che a livello di impatto visivo funziona però mi racconta veramente pochissimo è un mero esercizio stilistico inoltre c'è anche un'altra cosa io qui vedo che è stata rifilata in una mania però attenzione non è la prima devo dire che anche anche guardando le altre sono ce ne sono alcune rifilate informati che non sono proprio standard non il classico tre mezzi o quattro terzi questa cosa io l'ho già detta in video passati è una mia fisima e non c'è giusto sbagliato ognuno di voi può fare quel cavolo che vuole io personalmente quando presento un lavoro presento tutte le foto con lo stesso formato non ne presento una in tre mezzi una in sedici noni una quadrata una quattro terzi no tutte uguali è una fisima mia me ne rendo conto è così indispensabile no fai più bella figura se lo fai secondo me sì fai brutta figura se evadi questa regola no però bisognerebbe capire perché l'hai fatto perché se c'è una motivazione io non dico più niente se è affidato al caso o se le foto vengono da collezioni diverse forse sarebbe il caso di pensarci per tenete conto che io valuto anche questo se mi mandate un portfolio con foto prese da 50 anni della vostra vita io poi faccio anche fatica a dire a mettere insieme i pezzi magari le prime che avete fatto fanno schifo le ultime che avete fatto sono bellissime io poi mi trovo a domandarmi ma perché mi ha messo dentro queste foto che erano meno belle quando c'erano quelle altre tutte più belle il motivo lo sapete voi che sono foto fatte nel corso di una vita ma io non lo so non lo capisco quindi io darò un voto un voto sì per carità un'opinione scarsa a quelle fatte male un'opinione altissima a quelle fatte bene però poi mi trovo a domandarmi come mai c'è questo squilibrio e mi domando come mai questa differenza di formato poi magari ne parliamo nei commenti andiamo avanti qui abbiamo montagna di di roccia che mi domando dove sia dolomiti non ne ho idea tra l'altro non capisco con cosa è stata scattata però dsc 0 il nome del file quindi quasi certamente una nikon allora questa foto secondo me è sottoesposta e di pochissimo si può recuperare in posto con un non nulla l'inquadratura va bene l'esposizione tutto sommato va pure bene perché la possiamo sistemare sottoesposta ma veramente di un terzo di stop non è malvagia come foto questo cielo molto presente questa montagna con questa forma così particolare non mi dispiacciono i colori sono comunque molto belli io avrei l'avrei esposta un pochettino un po più brillante per tirare fuori un pochino di colore in più e attenzione signori questa era l'ultima foto di questo portfolio per cui a questo punto le solite domande di rito fatemi sapere in un commento se ce n'è una che vi è piaciuta di più qualcosa che va convinto di più qualcosa che va convinto di meno avreste fatto qualcosa in maniera diversa vi ricordo che se volete partecipare voi stessi a questo divertente format in cui andiamo a esaminare le vostre fotografie il modo è semplicissimo mi mandate un link che non scade in un messaggio privato su instagram così ho il tempo di guardarmelo e di farvi il video quando lo faccio vi commento su instagram e vi dico ho preso in carico il vostro portfolio sto facendo il video e uscirà nelle settimane successive a questo punto come tutte le volte io devo sempre dirvi le stesse cose vi annoierete mi odierete ma non importa vi devo ricordare di iscrivervi al canale lasciate anche un like a questo video se vi è piaciuto se avete imparato qualcosa io vi ringrazio come sempre di aver dedicato un po del vostro tempo al mio canale ma alla fotografia in generale spero che questo format riesca comunque a continuare a essere utile per imparare sempre cose nuove confrontarsi su composizioni inquadrature chi più ne ha più ne metta vi do come sempre appuntamento al prossimo video